Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di Twilight. Come forse avrete sentito, nei giorni scorsi è uscita la notizia che Stephanie Meyer, cioè l'autrice della serie di Twilight, pubblicherà dopo diversi anni dalla fine della sua saga Midnight Sun, ovvero la riscrittura di Twilight dal punto di vista di Edward, ovvero del protagonista maschile. Twilight, per quei pochi che non lo sapessero, è un libro paranormal romance uscito nel 2005, riguarda una ragazza di 16 anni che si trasferisce nella cittadina isolata e di provincia del padre e che si innamora immediatamente del ragazzo fighissimo, chiaramente, ma triste cupo della scuola, che si scopre essere un vampiro. Lui si innamora a sua volta subito di lei e la vuole amare per sempre. E lei è super carica, ma ci sono dei problemi di mezzo e così avanti per quattro libri. Il video di oggi, come forse avrete letto dal titolo, in realtà è la mia desamina su perché forse sarebbe il caso di non essere così entusiasti per questo ritorno. Perché Twilight è un romanzo e una serie così popolare? Sin dall'epoca vittoriana, le storie sui vampiri sono entrate a fare parte proprio della cultura pop che tutti abbiamo. La figura stessa del vampiro ha, nel corso delle varie opere, sempre di più enfatizzato alcuni aspetti che la nostra società ha tendenzialmente tentato di reprimere. Infatti spesso la figura del vampiro ha enfatizzato i nostri desideri proibiti, ha utilizzato metafore sessuali che molto spesso, soprattutto nella prima fase nella quale sono comparsi, non erano nemmeno pensabili in letteratura. E ovviamente è un personaggio sempre accostato alle avventure più spericolate, proprio grazie alle sue caratteristiche di questa forza sovrannaturale e una grande voglia di fare le cose al limite. Sfortunatamente la figura del vampiro ha anche spesso incluso messaggi a supporto del sessismo e dell'abuso, soprattutto legato all'abuso di potere. Nel caso specifico di Twilight, visto anche il target a cui è indirizzato ed era indirizzata quest'opera, è molto probabile che milioni di fan abbiano interiorizzato e accolto messaggi su una relazione problematica senza trovarla problematica. E qua direi che è il momento in cui io devo fare le mie doverose premesse. Se siete fan di Twilight, questo non è un video assolutamente contro di voi. Se siete affezionati all'opera, non c'è problema. Quello di cui mi interessa parlare è il contenuto dell'opera, questo non sminuisce in alcun modo la vostra esperienza. Non è un video per colpevolizzare i fan, non è un video che nasce per farvi sentire in modo orribile. Questo non è lo scopo del video. Ma ovviamente lo scopo del video è quello di ragionare, come sempre, su questioni che dovrebbero renderci consumatori sempre più consapevoli e anche critici verso ciò che ci viene proposto e che proponiamo a nostra volta. Le esperienze personali e il legame che ogni persona ha con il contenuto del libro non ha nulla a che fare con il contenuto stesso del libro. Ci si può legare ad un'opera pur comprendendo che l'opera ha diversi problemi e avendone lucidità nell'evidenziarle. A 15 anni, cioè al target medio a cui è diretta quest'opera, non hai né una completa percezione né tutti gli strumenti per comprendere la complessità delle problematiche e di tutte le dinamiche problematiche contenute nell'opera. Ed è anche vero che si potrebbe dire che Twilight alla fine è un'opera di fantasia e quindi è innocua. Ma è un'opera di fantasia che stuzzica quelle basi di guilty pleasure che tutti noi abbiamo e ricerchiamo molto spesso di leggerezza che però a volte propongono dei meccanismi e delle dinamiche che noi siamo portati tendenzialmente ad assimilare o che potremmo assimilare anche solo in minima parte. Ed è vero anche che questa saga è assimilabile alla commercial fiction, quindi ha un prodotto commerciale senza grande qualità che chiaramente può non essere perfetto, non c'è nessun tipo di problema. Questo secondo me è sempre stata una percezione un po' distorta che si ha delle proposte commerciali che il mondo dell'editoria continuamente tira fuori. Non esula l'opera dall'essere qualitativamente un buon prodotto o quantomeno un prodotto decente. E vi dico, in questo video non mi addentrerò nemmeno per sbaglio nelle problematiche legate alla costruzione, alla scrittura, a come la trama non abbia senso, come non ci sia una trama, anzi forse è meglio dire, sulla caratterizzazione dei personaggi nel dettaglio, sul world building con dei buchi grandi come la fossa delle Marianne, perché non siamo qui per questo. Quindi, posto che tutti noi possiamo amare moltissime cose, anche quelle problematiche, è il caso di fare qualche appunto sul perché queste cose sono problematiche e perché anche le cose che amate lo possono essere. Questo non cambia la vostra percezione dell'opera, ma spero la arricchisca. Quindi questo video, come avete già letto dal titolo, è un po' una risposta a tutta questa esaltazione che ho visto anche da moltissimi miei colleghi che non hanno detto una parola sulle problematiche di Twilight e quindi, insomma, perché questo ritorno non è nulla per cui dovremmo esaltarci? Perché forse nel 2020 essere esaltati per Twilight è un problema? Davvero, secondo me non c'è nulla per cui essere esaltati. Però rimando a voi qualche ragionamento su quello che sto per dire, sarei molto contenta se alla fine del video, se avete la pazienza di ascoltare tutto il mio discorso, avrete anche voglia di commentare insieme a me. Sia nel caso che siate d'accordo, sia soprattutto forse nel caso in cui invece avete una visione molto diversa di questi meccanismi e dell'opera stessa. Parto dalla questione forse più leggera legata al video, cioè perché questo ritorno è anche una pessima operazione commerciale. Questo è forse chiaramente l'aspetto più leggero del video, però forse c'è un problema anche di marketing. Siamo davvero sicuri che il pubblico di Twilight, che ora è composto da 25 anni e 30 anni, perché nel 2005 io avevo 16 anni, ok? Quindi ero perfettamente in target per Twilight, se non fosse che era il periodo dove mi era innamorata di Anne Rice, quindi capite bene come può essere andata a finire questa mia lettura. Ok, ovviamente senza tornare fuori dalle righe ancora una volta. Siamo davvero sicuri che un pubblico composto di 25-30 anni, più o meno, o poco di più, o poco di meno, sia il pubblico giusto ora? Funzionerà davvero come revamp dell'opera? Io non credo, nel senso che quando è uscito Twilight, cioè nel 2005, il pubblico prevalentemente si è concentrato attorno all'opera in un'età adolescenziale. È passato davvero tanto tempo, il pubblico è cresciuto, spero abbia affinato anche i suoi gusti, abbia letto tanto altro oltre a Twilight, o tendenzialmente è anche passato ad altro. Rimane ovviamente un nocciolo durissimo di super fan, ma in moltissimi magari hanno un ricordo di un certo tipo molto leggero legato all'opera e magari hanno iniziato a leggere altro, quindi hanno anche capito le varie problematiche in esso contenute. Non lo so, io la trovo un'operazione di marketing non proprio brillante, anche perché questa cosa di scrivere l'opera dal punto di vista di Edward, non so, penso che davvero questa riscrittura di Twilight dal punto di vista di Edward avrebbe avuto un successo commerciale pazzesco se il libro fosse uscito dopo un paio d'anni anche dalla fine di Twilight, perché effettivamente si sa che quando finisce un'opera molto popolare le persone hanno voglia di averne di più, anche quando questo di più probabilmente non è la cosa migliore che potrebbero avere, però abbiamo visto tantissimi casi come da Harry Potter a 50 sfumature di grigio le ho messi nella stessa frase. Ok, quindi avrei capito perfettamente se questo libro, come già era stato annunciato, poi ci fu un gate di versione che venne liccata, riccata eccetera eccetera, quindi la Mayer si arrabbiò bla 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 bla, e io capisco anche che la Mayer abbia davvero bisogno di rinforzare i suoi conti in banca, ma ha senso pubblicare un libro del genere 15 anni dopo la pubblicazione di Twilight? Io non ne sono molto sicura, non credo che il grosso del pubblico abbia davvero questa grande necessità di leggere il punto di vista di Edward, ma io direi che questa era forse la parte più leggera e un po' il pur parler di oggi, perché diciamo che ora passiamo alla parte frizzantina, per modo di dire. Passiamo proprio al perché forse oggi è il caso che tutti pretendiamo qualcosa di più che leggere un libro dal punto di vista del personaggio di Edward, o addirittura di un libro come Twilight, sia come lettori cresciuti che come lettori che si avvicineranno a quest'opera. Vi devo dire che in generale io non ho mai visto così tante copie in vendita nei mercatini dell'usato come quelli di Twilight nel corso degli anni, quindi è proprio un libro che la gente ha voluto dare via, e mi sembra sempre un segnale anche di poca affezione all'opera, e questa è una cosa molto strana. Allo stesso tempo ho fatto veramente fatica a vedere nuove generazioni di lettori che si infocavano e si interessavano veramente a Twilight, e questo è un altro aspetto di marketing un po' strano, e forse ci traghetta questa mancanza di un nuovo pubblico forte e affezionato all'opera, al perché forse ci si sono affezionati e avvicinati così poco. Partiamo sempre dal presupposto che la fiction ha sempre un certo livello di libertà, e in questo non c'è nulla di assolutamente sbagliato, e questa libertà l'è dovuta in qualche modo perché ti permette come autore di spaziare in un certo range di fantasia, anche quella un po' problematica. Questo però deve sempre tenere conto di un aspetto molto importante, cioè innanzitutto il target al quale ci riferiamo, e allo stesso tempo anche il tipo di messaggio che si trasmette nell'opera. Parlare di cose problematiche non è assolutamente un problema, per quanto mi riguarda deve comunque avere sempre un presupposto di mostrartele nel modo corretto, cioè se questi messaggi ti arrivano come lettore, pensando che siano positivi, romanticizzati, eccetera, eccetera, per me è un problema. Ma ora andiamo nel dettaglio. Perché è problematico Twilight? Perché la relazione tra Bella ed Edward, le reazioni di Bella, le reazioni di Edward, di Jacob, e di tutto ciò che gli sta attorno è problematico. Partendo dal presupposto che io ho davvero un grandissimo rispetto per tutti i lettori, da quegli adolescenti a quelli di età ovviamente più avanti, bisogna sempre tenere conto che per tantissimi lettori che magari leggono Guilty Pleasure con piena consapevolezza delle problematiche, e quindi dei lettori molto consapevoli, tante altre persone invece assimileranno certe dinamiche, non capiranno in che modo e quanto sono problematiche, le interiorizzeranno non capendone le negatività e gli alert da accendere. Penseranno che magari quella tra Bella ed Edward è una relazione molto romantica alla quale ispirarsi e alla quale aspirare. Ma raga, no. Mentre davvero tante storie di vampiri sono magari rette di lezioni culturali, altre sono invece spesso legate all'esplorazione della propria sessualità e delle fantasie legate alla propria sessualità o della libertà personale, insomma tutto ciò che ha a che fare con quel campo legato al pudore e legato proprio invece alla restrizione che ti dà la società legato alla libertà anche dal punto di vista sessuale, la serie di Twilight secondo me è un ottimo esempio. Può essere usata come dimostrazione di comportamenti che mettono le persone in guardia quando ci sono dei rischi di abuso nelle relazioni. La popolarità della serie di Twilight mostra e ha mostrato nel corso degli anni quante attenzione moltissime ragazze, ma non solo, abbiano posto a un tipo di relazione o a degli esempi di relazione mostrati nel mondo di Edward e Bella. Per moltissimi lettori Edward rappresenta l'anima tormentata, l'uomo travagliato che sta aspettando solo la donna giusta e quindi insomma ci viene riproposto come una sorta di moderno Bella e la bestia. Sfortunatamente però lo sviluppo e le caratteristiche stesse della relazione tra Edward e Bella sono in realtà modelli di violenza e abusi in una relazione. Che i fan di Twilight, ripeto, per quanto alcuni siano davvero molto consapevoli, molto intelligenti e non abbiano assolutamente problemi a scindere le due cose, ma molti altri possono inconsapevolmente assorbire certi modelli di una relazione tutt'altro che salutare. Mentre la violenza nelle relazioni è chiaramente molto difficile da codificare, è estremamente complicata e ogni caso ha davvero delle peculiarità, alcuni segnali di avvertimento sono molto chiari e molto comuni nelle relazioni abusive e in Twilight gli alert non mancano. E noi siamo chiaramente qui per sottolinearli tutti. Partiamo dagli inizi, shall we? Ricapitoliamo il problema numero uno fondamentale e principale, la romanticizzazione di comportamenti abusivi o problematici. Più una lunga sequela di cose. Vi faccio un elenco molto breve, un recap veloce veloce. Lo stalking, abuso, abuso di potere, una relazione abusiva, la codipendenza, l'isolamento, non solo emotivo, la romanticizzazione della depressione, la manipolazione emotiva, le manie di controllo, la possessività, la repressione sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio subito un esempio. Quando Erdogan e Bella inizialmente sono in una situazione dove non si capisce cosa succederà, cioè vorrei, ma non posso, ti remolla, insomma, spoiler, ovviamente andrà a finire che non ci sarà più il ti remolla, lui letteralmente la insegue e da lettore tu sei portato a pensare che questo non sia inquietante, ma anzi sia in qualche modo estremamente romantico ed affascinante. Se vi succede nella vita reale, mi raccomando, e qualcuno vi insegue continuamente, scappate, anzi, tendenzialmente vi direi anche di denunciare. Andiamo per ordine, vi parlerò ora dei vari personaggi in modo che siano più chiare le dinamiche che li coinvolgono. Partiamo da Bella che è la nostra protagonista, che mostra tre caratteristiche molto comuni nelle vittime di relazioni violente. La prima e forse la sua più evidente caratteristica è quella legata alla sua bassissima autostima. Bella ricorda continuamente a se stessa quanto sia sfigata fondamentalmente, quanto non è capace di coordinare il suo corpo, quanto non abbia capacità reali di socializzare e quanto si sente poco attraente. Quando Edward mostra interesse per lei, la bassa autostima di Bella lo mette automaticamente in una posizione di potere nei confronti di Bella. Può trattarla praticamente esattamente come lui vuole perché tanto lei lo percepisce totalmente fuori dalla sua portata, troppo per lei ed è molto fortunata anche solo ad essere vagamente considerata da lui. Bella è chiaramente attratta da uomini che sono considerabili proibiti per lei. Un po' ricordando questo effetto Romè e Giulietta anche se in maniera totalmente diversa, diamanti che non sono ammessi, disapprovati o semplicemente irraggiungibili a volte diventano per noi ancora più desiderabili. Questo è il punto che forse ha maggiore presa sul lettore, forse quello che proprio più di tutti riesce ad attirare, a stuzzicare l'attenzione del lettore perché magari si immedesima in un personaggio come Bella che non ha caratteristiche particolarmente eccessive, spiccate, particolarmente apprezzabili ma essendo una ragazza normale che attira l'attenzione di un personaggio invece molto al di sopra o considerato molto al di sopra delle sue possibilità questo fa automaticamente presa. L'effetto del sentirsi inadeguata e magicamente notata scelta è in grado di attirare l'attenzione del bellissimo del più bello. In pratica ci sentiamo come se avessimo vinto una lotteria. Bella è così attirata dal bad boy della situazione che tra l'altro ha più di tutti altissime probabilità di avere dei comportamenti violenti nei suoi confronti ed Edward magari non ci basta come prova di caratterizzazione problematica allora quando Edward se ne va Bella si mostra recidiva infatti quando Edward la molla scompare e lei si avvicina a Jacob Bella inizia a desiderarlo solamente nel momento in cui lui decide di non vederla più e la respinge che ovviamente avviene in concomitanza con il suo aumento massiccio di massa muscolare e diminuzione drammatica di magliette a disposizione ma ok in più Bella è semplicemente proprio eccitata dalla violenza dall'aggressività dal pericolo lei trova tutto questo molto emozionante l'attrazione per Bella per qualsiasi cosa legato al pericolo quindi pericoloso di per sé è evidente in moltissimi casi attraverso le sue azioni praticamente senza senso che la mettono costantemente in pericolo o che la traghettano nel mezzo del pericolo dimostrando una vera e propria totale mancanza di conservazione preservazione personale guida una moto perché è pericolosa ma lo fa perché così sa che è l'unico modo per attirare l'attenzione di Edward e già qui potremmo aprire un grosso capitolo che apriremo dopo quando Edward dice a Bella che lui ha intenzione di uccidere chiunque letteralmente chiunque cerchi di farle del male Bella è attratta dalla sua natura violenta non scappa gambe levate e come potrebbe notare chiunque sia Tim Jacob Bella diventa attratta da Jacob solamente nel momento in cui scopre che è un lupo manaro violento che potrebbe strapparle le viscere e anche qua invece che fuggire ne rimane terribilmente affascinata fondamentalmente Bella rimane affascinata da Edward perché assolve una sua fantasia interiorizzata salvarla dalla minaccia della violenza di gruppo perché non è un problema desiderare di essere salvati di per sé ma quando questo meccanismo viene messo in pratica in una situazione pericolosa a rischio della propria vita dal via libera a una serie di comportamenti abusivi e assolutamente inquietanti e sbagliati dei quali parleremo in profondità dopo in New Moon Edward decide di lasciare Bella per proteggerla dice a Bella semplicemente che però non la vuole più non dà spiegazioni nonostante stessere insieme da poco più di 5 minuti quando lui se ne va Bella cade in depressione in una profonda depressione lasciatemi dire e non sembra assolutamente in grado di funzionare come persona non è assolutamente in grado di avere una vita senza Edward ripeto nonostante stessero insieme da 5 minuti e mentre la sua depressione viene molto romanticizzata questa cosa io la trovo estremamente problematica perché viene vista come un tratto caratteristico quasi affascinante no? che bello sei depressa questa esteticizzazione della salute mentale io non la capirò mai perché per come ci viene presentato dentro Twilight diciamo che per Bella la depressione è un sintomo una chiara dimostrazione del fatto che il suo amore è realmente immortale cioè lei quando a mancanza di Edward non riesce più a supportarlo no? come se fosse sana questa cosa come se fosse estremamente romantica ci viene raccontata in modo estremamente drammatico e dimostra in realtà che la loro relazione ha un forte problema di codipendenza anzi era proprio pericolosamente aggrappata alla codipendenza Bella non vede più la vita come degna di essere vissuta se Edward non è presente nel complesso davvero sappiamo tutti che in adolescenza le emozioni sono tutte molto amplificate vissute con estrema drammaticità da molte persone ma è tutto troppo intenso soprattutto per un adolescente che ha conosciuto il proprio ragazzo da 5 minuti dovrebbe uscire con gli amici concentrarsi sulla scuola conoscere nuove persone non desiderare addirittura di morire proprio perché non ha più un ragazzo al suo fianco con cui aveva appena iniziato ad uscire e che le ha detto persino che non la voleva più che non la desiderava nemmeno e mentre è normale chiaramente desiderare di passare tanto tempo con la persona a cui siamo affezionati al proprio ragazzo il tuo partner il tuo fidanzato insomma quello che è non è assolutamente salutare per lui o per lei obbligarti a tagliarti fuori da tutto il resto della tua vita in Twilight quando Bella incontra Edward inizia ad ignorare completamente tutte le sue altre relazioni di natura sia familiare che di amicizia è stata introdotta appena arrivata nella nuova città a diverse persone e la sua nuova scuola ha conosciuto diversi ragazzi e ha in qualche modo creato il suo gruppo di amici è stata messa in mezzo a un gruppo di amici già esistente tuttavia man mano che la storia progredisce gli amici vengono visti sempre meno e scompaiono sempre di più sono sempre meno presenti tutta la vita di Bella ruota improvvisamente attorno ad Edward anche quando diventa una buona amica di Jacob che è l'unica persona con cui aveva un legame fondamentalmente già da prima Edward fa tutto il possibile per tenerla lontana da lui ed è chiaro che Edward lo fa perché lui è un rivale ma questo esclude Bella nuovamente da un'altra relazione che aveva già ben prima di Edward e Bella continua ad accettare tutto questo passivamente senza preoccuparsi di tutte le conseguenze che comporta l'isolamento mentre il suo ragazzo importante anche le sue amicizie dovrebbero esserlo e invece a quanto pare quando conquista un homme e merda non conta più niente e effettivamente Bella quindi dimostra questi tratti di attrazione per la violenza anche quasi di percepire la violenza come qualcosa che lei si merita in fondo in più anche questo sentirsi inadeguata continua assolutamente a porle in una posizione di inferiorità nella gerarchia della coppia e tendenzialmente il suo isolamento sempre più costante sempre più manifesto dovrebbe far scattare qualche allarme ma direi che ora è arrivato il momento di aprire le vasche della problematicità perché parliamo di Edward e insomma passiamo ad Edward e capiamo perché è un personaggio del merda Edward mostra davvero tantissime caratteristiche degli aggressori e delle persone abusive però noi lo vediamo sempre come qualche cosa di romantico e partirò da questo punto che rende già tutto molto frizzantino da molti non viene assolutamente visto come un problema non importa quanto ci possano sembrare romantici Edward e Bella noi non possiamo in alcun modo ignorare la loro differenza di età perché non importa come la giriamo Bella è troppo giovane per lui Edward è chiaro che ci sembra questo adolescente anche molto affascinante ma in realtà ha più di 100 anni questa è chiaramente un'incredibile differenza di età se noi la rapportiamo a Bella che ha 16 anni è un grande divario di età che copre addirittura decenni e decenni mettendola già di per sé in una chiara posizione di inferiorità nei confronti della maturità sviluppata da Edward che passa anche ovviamente dalla parte del predatore un po' inquietante per quanto Edward sembri un adolescente Edward ha più di 100 anni e sta con Bella che ne ha 16 affascinante magari però molto inquietante perché è bello è affascinante e con molti dubbi qua anche romantico molti fan ignorano questo dettaglio e cercano di girarci attorno rendendolo un po' romantico in fondo possiamo anche pensare che Edward sia arrivato ad innamorarsi di Bella solo perché aspettava la donna giusta e lei lo è e possiamo anche far passare la differenza di età come un guilty pleasure in fondo c'è questa fantasia può essere anche vista come molto comune una relazione frizzantina un po' proibita ma è semplicemente l'ennesimo tratto di grande sbilanciamento di potere all'interno della coppia che conferisce ovviamente più potere dato dalla sua maturità e dalla sua esperienza a Edward a scapito di Bella già qui vi dovrebbe partire l'alert perché Bella di per sé per quanto si può dire che a 16 anni ci sono persone estremamente mature Bella in realtà non lo è gran che si dimostra molto insicura molto a disagio soprattutto nei confronti delle relazioni e questo continua davvero a incrementare il divario tra il potere all'interno della coppia ma facciamo finta che questo non sia problematico e passiamo al resto perché ne abbiamo sempre rimanendo su Edward innanzitutto una delle sue caratteristiche distintive è proprio la possessività e il controllo che esercita su Bella e anche ovviamente i suoi tentativi come dicevamo già prima di isolarla dagli altri chi abusa di una persona all'interno di una coppia usa spesso questa tattica per garantire che le proprie vittime non possano scappare da loro anche quando tentano di farlo dopo aver deciso che la vuole è pronto a isolarla a farla sentire sempre più sola e per il resto della serie non fa altro che continuare a proteggerla continuamente da qualsiasi altro tipo di interazione incluso suo padre e i suoi amici Edward le proibisce costantemente di vedere Jacob perché è un potenziale rivale e addirittura arriva a sabotare la sua auto in modo che non abbia una via di fuga cioè ci rendiamo conto che questo non è romantico ma se qualcuno impedisce alla tua macchina di andare è una violenza incredibile ma facciamo finta che non lo sia diciamo che non è la mia idea di romanticismo alle stelle e spero che non lo sia nemmeno per voi successivamente l'uso della coercizione per accelerare lo sviluppo di questa vicinanza è un altro comune segnale di avvertimento che Bella avrebbe dovuto cogliere e ascoltare e che spero che i lettori abbiano almeno messo un alert gigante se un abusatore può ottenere la completa attenzione e anche l'impegno il tempo della sua vittima nel minor tempo possibile questa in pratica blocca la vittima e le impedisce qualsiasi tentativo di fuga una volta che Edward e Bella hanno deciso di stare insieme e già succedeva prima quindi vabbè trascorrono proprio ogni notte insieme nella sua stanza e anche quando non stanno ufficialmente insieme cioè hanno momenti di vita brevemente separati cerca sempre di seguirla e seguirla anche nei pensieri degli altri usando ovviamente i suoi superpoteri da vampiro poiché non può essere presente insieme a lei le propone di sposarlo quando sa benissimo che lei non è pronta e si rifiuta persino di ascoltare le sue ragioni le sue rimostranze perché lei vorrebbe semplicemente aspettare per il matrimonio ma a quanto pare no questa è una grandissima aspirazione che tutti dovremmo avere essere costretti a sposare qualcuno anche quando non lo vogliamo cioè ma ci rendiamo conto siamo esaltati per questo libro sì a quanto pare siamo esaltati per questo libro vabbè il classico segnale di avvertimento del fatto che stai avendo a che fare con un partner violento sono gli altissimi livelli di gelosia e di possessività quando Bella viene a sapere che Edward era a Port Angeles perché la stava seguendo lì di nascosto gli è riconoscente per essere stata salvata dall'attacco di ragazzi che avrebbero potuto davvero attaccarla per non dire talentarla in gruppo ma lei non sembra notare l'altro problema della situazione ovvero che lui la stava stalkerizzando perché questo è un comportamento molto chiaro di stalking puro e semplice ma finisce per salvare Bella da un gruppo di ragazzi cattivi ti viene da dire no? sicuro ma la stava perseguitando chissà poi da quanto tempo e davvero Edward continua a relazionarsi con Bella in modi che lo disegnano come un predatore geloso e possessivo e potenzialmente violento non importa se a un certo punto la salva da una potenziale violenza di gruppo diciamo che poi Bella non era stata sveglissima in quel punto ma capite la problematica in pratica va bene che in pratica Twilight ti fa passare questa idea che va bene che un potenziale partner romantico sia violento vendicativo e possessivo purché abbia degli addominali fantastici e anche glitter mentre alcuni davvero considerano Edward estremamente romantico alcuni dei suoi comportamenti davvero sono manifestatamente abusivi o semplicemente inquietanti e moltissimi di questi comportamenti hanno addirittura inizio prima che stessere insieme guardare il proprio partner mentre sta dormendo può essere chiaramente un atto molto dolce il rompere nella stanza della ragazza per la quale hai una cotta per guardarla dormire senza che lei lo sappia e abbia dato il suo consenso alla tua presenza nella stanza è quanto meno strano possiamo convenire su questo Edward non solo l'ha fatto ma anche costantemente combattuto il suo impulso di morderla al collo e di berla praticamente fino a prosciugarla e quando effettivamente si mette con Bella le dice le confessa persino che era ormai diventata un'abitudine farlo e lei invece che essere inquietata dal suo comportamento di stalking lo trova quasi lusinghiero apparentemente quando un ragazzo che hai appena incontrato e conosciuto anzi nemmeno conosciuto si infila in camera tua senza essere stato invitato e ti guarda dormire è romantico mi pare ovvio che oltre a essere una chiara violazione di domicilio possiamo concordare che lo stalking di questo tipo è veramente inquietante cioè almeno su questo siamo d'accordo non vedetelo come romantico pensate che potrebbe essere chiunque Edward che ne sa bella di chi è Edward che gli si infila in camera ma poi arriviamo al team Jacob perché Jacob non è immune da tutte le problematicità che il suo team magari non ha mai voluto vedere poi magari pensate beh Edward è un home e merda c'è Jacob siamo tutti d'accordo che Edward è un personaggio orribile ma Jacob non è che sia tanto meglio moltissimi fan di Twilight infatti desiderano che Bella finisca con Jacob nonostante lei abbia ovviamente scelto di sposare Edward e mentre Edward ha tutta la sua sequela di problemi Jacob è tutto fuorché perfetto che secondo me non è che fosse tanto una scelta migliore in apparenza infatti Jacob può sembrare molto carino coccoloso comprensivo anche addirittura nei confronti di Bella ma è molto 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 lamentoso e soprattutto possessivo è stato dolce con Bella fin tanto che lei non gli fa notare che comunque rimarrà fedele ad Edward e lui come reagisce con un impeto di totale rabbia e violenza proprio come fa Edward la manipola costantemente dal punto di vista emotivo perché lui cerca comunque di farsi strada nel suo cuore e quale modo migliore per una persona che ha già dimostrato di essere propensa alla manipolazione emotiva come è Bella se non replicare questo comportamento Bella non ha mai dovuto nulla a Jacob se non la sua amicizia ma lui ha sempre cercato di farla sentire in colpa di colpevolizzarla per non voler stare insieme a lui per non cercare una relazione romantica qualcosa di più dell'amicizia quando Edward continua a chiedere aspetta chiedere diciamo forzare che è più corretto quando lui continua a forzare Bella e convincerla a sposarlo trattenendo il suo morso di vampiro magico sbrilluccicante Jacob si mette ovviamente a fare di tutto per convincerla a rimanere umana e a non diventare una vampira ma non tanto perché si rende conto che questo per lei potrebbe essere pericoloso non tanto perché non si adatta alla vita di vampiro ma per due motivi principali e molto egoisti in primis vuole stare con lei ad ogni costo e questo non è mai mascherato e soprattutto i vampiri sono i suoi nemici mortali quindi dopo le farebbe schifo quindi questa cosa nei confronti di Bella non ha alcun atto di altruismo anzi è semplicemente la dimostrazione dell'ennesimo comportamento egoista e colpevolizzante da parte di Jacob Edward e Jacob possono per un attimo mettere da parte le proprie diciamo posizioni le loro differenze anche solo per un istante ovviamente nope cioè pensate che Jacob a un certo punto cerca in assoluto di dare un bacio a Bella e Bella si ribella non mi è giuro che non l'ho fatto apposta e lei si ribella Edward arriva delle esasperazioni di gelosia così alte che addirittura non vuole nemmeno che Jacob mantenga Bella al caldo durante la tormenta per farla sopravvivere e però allo stesso tempo Jacob continua a forzare queste situazioni dove Edward chiaramente dimostra sempre di più il suo lato possessivo e dominante ma anche Jacob non è che ne esca tanto meglio perché la mette continuamente in pericolo e di fronte a decisioni che potremmo definire out-out cioè non è tanto nobile da parte di Jacob continuare a mettere Bella in situazioni che sai già che metteranno a serio repentaglio la sua vita perché ha a che fare con una persona estremamente violenta alcune settimane diciamo dopo il matrimonio poi si scopre che Bella è incinta e nasce renesme ma durante la nascita Bella è chiaramente sul punto di morire ed Edward cosa fa? cerca di trasformarla in un vampiro tutti pensano che sia praticamente troppo tardi e Jacob cosa fa? vuole uccidere la bambina ci rendiamo conto tutto ok e poco prima che lui riesca ovviamente a farlo Jacob ha l'imprinting con renesme che tra l'altro ogni volta che pronuncio il suo nome mi viene da ridere però questo è un video serio il che significa che lui diventa irremediabilmente devoto e fedele nei confronti della bambina diciamo pure che comunque l'imprinting ce l'hai con il tuo compagno di vita quindi diciamo che lui si innamora fondamentalmente di renesme che è una bambina appena nata questo è inquietantissimo cioè è disgustoso non è per nulla romantico cioè in Eclipse Jacobs spiega a Bella che i lupi mannari a un certo punto possono avere l'imprinting su quelle persone che un giorno diventeranno il loro compagno i fan di per sé accettano il concetto di imprinting fin tanto che poi non accade nella maniera più inaspettata all'interno del libro cioè fin tanto che lui non ha spaventosamente lasciatemi dire l'imprinting sulla figlia ovviamente ancora bambina di Bella e chiaramente mentre lei è una bambina i sentimenti di Jacob nei suoi confronti sono più di natura protettiva che romantica ma è ovvio che se in una prima fase lo rifiuti sei portato a pensare che un giorno Jacob avrà dei pensieri molto più che romantici nei confronti di Renesme non importa quanto la gire la regiri quando la bambina sarà maggiorenne ipotizziamo chi lo sa lui si innamorerà di lei ci sono davvero tanti potenziali finali che la Meyer avrebbe potuto scegliere per Jacob e ha scelto forse il più inquietante perché mentre Cullen a un certo punto sembrano accettare quasi passivamente questa cosa che non possono combattere cioè accettano il concetto secondo me molti fan hanno un po' dovuto ignorare questo aspetto che ripeto è inquietante ma direi che va bene così ormai non ci scandalizziamo più per niente per nessuno nella logica di Twilight in pratica se un ragazzo ti dice di stargli lontano perché è pericoloso e potrebbe anche ucciderti deve essere per forza l'amore della tua vita dovresti stare con lui perché ti terrà per sempre al sicuro cioè in pratica se un ragazzo è semplicemente distaccato o ti ignora totalmente non è perché è semplicemente maleducato è perché è segretamente innamorato di te e tu sei il punto centrale di tutta la sua esistenza se un ragazzo ti lascia specialmente all'improvviso mentre ti dice che non ti vorrà mai più vedere è perché ti ama così tanto che soffrirà solo per tenerti al sicuro quando un ragazzo ti lascia andare in stato di shock perdere tutti i tuoi amici iniziare a soffrire di terrori notturni cadere in depressione sono eventi completamente accettabili e normali perché tu alla fine mantenga i tuoi voti alti in maniera inspiegabile peraltro è estremamente romantico mettersi in situazioni molto pericolose estremamente pericolose solo per rivedere il tuo ex è ancora più romantico forse ricordare il suono della sua voce quando ti gridava addosso e ti urlava contro inoltre dovresti assolutamente usare il tuo ragazzo per risolverti alcune situazioni alcuni tuoi problemi e sistemare le cose per te forse ti comprerà qualcosa di prezioso forse ti solleverà dai tuoi problemi quotidiani non importa dovresti addirittura usare suddetto maschio per sistemare le cose che le ragazze chiaramente non possono fare perché sono incapaci di fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con la meccanica o la tecnica o in generale proprio stare al mondo perché in fondo siamo tutte imbranate e non sappiamo vivere senza inciampare mentire ai tuoi genitori va bene secondo la logica di Twilight anche quando mentire ai tuoi genitori significa scappare per salvare il tuo ragazzo suicida perché è un'ottima idea e mostra una grande maturità inoltre è quello che devi fare il furto d'auto quando è coinvolto l'amore è totalmente accettabile vabbè che io sono anarchist quindi fondamentalmente va bene tutto se il ragazzo di cui sei innamorata fa in modo che anche indirettamente tu venga massacrata di botte e finisca in ospedale ricordati di dire ai dottori e alla tua famiglia che sei caduta dalle scale perché in fondo sei così sciocco goffo e sei una ragazza questa spiegazione funziona sempre bene per le donne vittime di violenza maltrattate e picchiate in casa figuriamoci per le sedicenni in uno young adult altra lezione che abbiamo imparato da Twilight è che gli uomini possono cambiare certamente anzi cambiati meglio se tu sacrifichi tutto ciò che sei tutte le persone con cui hai delle relazioni e ti dedichi totalmente a loro e al loro bisogno di cambiamento le giovani donne e le giovani ragazze non devono in alcun modo sforzarsi di migliorare le proprie capacità nelle relazioni sociali o il proprio benessere emotivo anzi invece che fare tutti questi sforzi inutili dovrebbero cercare potenziali compagni che condividano con loro il senso di cupezza le loro inclinazioni all'isolamento e un po' di queste compensazioni emotive che ci mancavano i vampiri una volta leggendari creature spaventose dei libri del cinema dell'arte non fanno più paura in realtà tranquilli perché sono altrettanto lamentosi egocentrici piangini e impotenti come esattamente qualsiasi essere umano questo è solo un breve elenco di ciò che Twilight ci ha insegnato nonostante questo video non sarà per nulla breve quindi insomma questi sono tutti i motivi per cui secondo me non c'è assolutamente nulla per cui esaltarsi di questa nuova uscita di Midnight Sun o almeno questo è un suggerimento anche per tanti dei miei colleghi quando vi esaltate almeno puntualizzate un attimino dove stanno le problematiche ricordatevi di dire qualche parola e di spendere qualche parola su ciò che non va in Twilight perché va bene averlo apprezzato da molto giovani essersi avvicinati amare questa serie perché ci siete affezionati io lo capisco molto bene ma non parlare di tutto ciò che è problematica in Twilight per me è molto grave è molto molto grave perché Twilight che è una serie young adult io dico sempre che secondo me il mondo si divide in prima di Twilight e dopo Twilight soprattutto dal punto di vista commerciale ed editoriale e riconosco il grande pregio di aver avvicinato alla lettura tantissimi ragazzi anche al genere fantasy questo però non esula nessuno dal trovare il contenuto problematico ripeto tutti noi siamo affezionati anche a serie film libri che hanno qualcosa di problematico al loro interno l'importante è esserne consapevoli e parlare anche di queste cose voi potete anche essere esaltatissimi ma non dimenticatevi mai di ricordare tutto ciò che non va dentro questa serie e io spero davvero che nulla di tutto questo sia entrato dentro di voi sia stato internalizzato però c'è un grande rischio anche io penso di non essere del tutto immune da cose che ho interiorizzato nel corso degli anni soprattutto nella mia adolescenza questo è uno dei problemi che probabilmente dovremmo tutti cercare di mettere in luce non perché dobbiamo solo leggere storie politically correct e totalmente prive di qualsiasi ombra grigia prive di qualsiasi problematica anzi questo ci aiuta molto ma la prospettiva non deve essere mai aspirare a queste cose deve essere sempre quella di comprendere che queste cose non fanno bene a noi e non fanno bene soprattutto a chi è più giovane di noi come effettivamente 15 anni fa ero io quando è uscito questo libro detto ciò io davvero ci tengo molto a sapere anche il vostro parere questo è un video lunghissimo quindi io mi rendo conto che se siete arrivati fino qua siete veramente eroici e vi ringrazio moltissimo per quello siamo tornati un po' all'inizio dei Feminist Friday quelli dove analizzavo soprattutto opere e tornerò a farlo perché sento che ce n'è davvero tanto 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 bisogno davvero voglio sapere il vostro parere ci sentiamo giù nei commenti con grandissima tranquillità se siete fan di Twilight ma anche se non lo siete voglio sapere il vostro parere voglio sapere cosa pensate di tutte le cose che ho detto in questo video e direi che insomma per oggi può essere tutto ci troviamo anche su Instagram per fare il Feminist Friday come sempre postate una foto con l'hashtag e io lo riposterò nelle mie stories e direi che insomma tendo il vostro parere spero di avere portato un contenuto quanto meno utile anche se non è una novità su YouTube mi rendo conto però io volevo proprio focalizzarlo tantissimo sulle tematiche di abuso all'interno delle relazioni e problematiche all'interno delle relazioni fatemi sapere cosa ne pensate per oggi è tutto spero di avervi tenuto compagnia e direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao